Bellissima partita piena di gol, piena con sei gol, bellissima partita, scusate ragazzi sono in macchina, bellissima partita che abbiamo fatto, Juve 3, Atalanta 3, allora, siamo partiti con un po' di sconcentrazione, però poi ci siamo resi conto che quella partita la dovevamo migliorare, poi è arrivato l'1-1 di Di Maria sul rigore, 10 minuti dopo il gol di Milik, poi il gol di Mele al 46esimo, poi arriva il gol 3-2 di Lukman, poi il 3-3 di Nonino. Danilo, 2 in campionato dopo quello con l'Udinese, abbiamo fatto una partita fantastica, meglio di quella con il Napoli, e comunque non me l'aspettavo perché pensavo che con l'Atalanta potevamo perdere, potevamo perdere e arrivare qui 12esimi. Quindi, almeno un pareggio, quota 23, vabbè, meno 14, abbiamo, come ho detto prima, eravamo un po' in ansia, ma poi ce la siamo scaricata tutta, perché questo è il modo di giocare, questa è la grinta che vogliamo noi tifosi gioventini, questa è la grinta, allegri! Questa è, questa è, quindi se non te lo metti in testa di giocare con la Lazio tra due giorni così, tra tre giorni così, e io mi rubro con te.